Ma ancora una volta ero costretta ad andare al buffet freddo di mia madre a base di tacchino HR al quale erano legate le esperienze più terrificanti della mia vita Ciao mamma fritta, che bello vederti Naturalmente era pieno di ospiti mascherati da carissimi amici dei miei genitori ma in realtà quelli erano i più orribili maialoni del Regno Unito Ciao Bridge, ciao Yuna No grazie Bello il tuo maglione Io preferisco quello che c'è sotto Ciao Jeffrey Ciao bellissima Ciao Popi, popi Ciao tesoro Ciao papà Come va? Vorrei essere morto Ma quest'anno c'era una differenza sostanziale Un bel maglione Mia madre ha dei gusti immutabili Ah già Erbo Erebo Di Irebo By